Adesso vi presento il patè di fegato d'oca. Questo è un prodotto che fa parte della linea senza sensi di colpa perché per realizzarlo noi utilizziamo solo ed esclusivamente carne d'oca e fegato d'oca non ingozzata. Praticamente utilizziamo un fegato sano d'oca che pesa circa 80 grammi al quale aggiungiamo la carne d'oca in particolare alcuni muscoli e burro senza lattosio in modo da mantenere il prodotto molto più stabile in frigorifero. È un prodotto che tutti possono molto armonico perché non utilizziamo anche in questo caso il maiale quindi in questo prodotto si ritrova tutta l'eleganza, tutta l'armonia, tutta la delicatezza della carne d'oca e del fegato d'oca. È un prodotto che quindi tutti possono mangiare perché è proprio senza sensi di colpa quindi rispettoso del benessere animale. Ha una buona spalmabilità e si vede proprio la lavorazione artigianale quando non si spalma. Si vede che è una bella spalmabilità e allo stesso tempo si vede questa struttura un po' non omogenizzata come quelli industriali perché è fatto artigianamente.